Sarà una partita veramente tosta, è particolare per tutti quanti perché è l'ultimo turno di qualificazione mondiale quindi si sente nell'aria un pochino di questo clima che è l'ultima dopo una partita particolare per me, la nazionale torna a Comersano dopo otto anni quindi speriamo fare bene Si respira una certa frizzantezza nell'aria, tu hai vissuto, vivi quotidianamente la città tra l'altro una città che è decentrato anche alla qualificazione dei playoff quindi questo aggiunge ancora entusiasmo però si respira un'aria abbastanza carica Sì, ma qua si respira palamano da quando ti svegli a quando vai a dormire quindi si respira palamano, si sente la tensione c'è tanta tanta gente che verrà a vedere la partita quindi siamo fiduciosi ma dobbiamo tenere comunque i piedi per terra perché sappiamo che il Montenegro è una squadra tosta, è una squadra di fascia alta quindi bisogna fare la nostra miglior partita per cercare di vincere Ecco, ogni possibilità dell'Italia passa da qua perché sappiamo quanto sarà poi complicato, difficilissimo andarsela a giocare nella partita di ritorno forse non ci dobbiamo neanche pensare alla partita di ritorno No, non ci dobbiamo pensare ma dobbiamo pensarci che comunque è una partita di 120 minuti Giochiamo la prima, cerchiamo di giocarla bene, cerchiamo di vincere di far sì che esprimere il miglior gioco e dopo si vedrà sulla seconda, dobbiamo vedere Rispetto alle altre partite con squadra di questa fascia che abbiamo giocato che tipo di partita ti aspetti, che tipo di avversaria troveremo dall'altra parte per caratteristiche tecniche, fisiche? Loro sono grandi, sono di stazza grande quindi magari un pochino meno mobili delle due partite che abbiamo disputato prima quindi magari il nostro gioco veloce può metterli in difficoltà quindi questo lo parleremo comunque con lo staff ancora non abbiamo discusso molto bene di tutta la presentazione del gioco quindi quando discuteremo quello magari te lo dirò Se mi permetti voglio fare due grossi in bocca al lupo uno ad Eki e un altro al mio compagno di squadra Jakob che ha sofferto un infortunio grave ma soprattutto dire a Dejan di avere tanta forza che siamo tutti con lui